La mattina del 4 aprile 1994 a Rigo Sacchi non immagina nemmeno in che guaio si sta per cacciare. E lunedì di Pasquetta che naturalmente per i calciatori non è un giorno festivo, men che meno per il CT. Più ossessionato e workaholic che ci sia, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto è finalizzato alla preparazione del mondiale americano. Oltre le classiche amichevoli di preparazione perse entrambe a Napoli contro la Francia e a Stoccarda contro la Germania, Sacchi ha preteso e ottenuto dalla Federcalcio anche degli stage di 72 ore, brandelli di tempo tra un trono di campionato e l'altro, per elimare il più possibile gli schemi, i tagli, i movimenti senza palla nell'utopia di rendere la nazionale il più somigliante possibile a un club. Per questo ha aperto i cancelli di Coverciano ai calciatori che conoscono meglio le sue idee, ovviamente quelli del Milan, e quelli del Parma che in America saranno ben 5, da Bucci a Minotti, da Zola a Luigi a Polloni. Ma, nello stage dal 4 al 6 di aprile del 94, quelli del Parma sono assenti perché devono recuperare quel giorno una partita di campionato a Reggio Emilia. E sono assenti anche quelli della Sampdoria, Evani, Lombardo, Pagliuca, Mancini, impegnati nella finale d'andata di Coppa Italia contro l'Ancona. E anche quelli del Milan, a dire la verità, non hanno tutta sta voglia, ultra compresti tra i finali di campionato in cui stanno inseguendo il terzo scudetto consecutivo e le partite decisive di Champions League. A rispondere presente sono appena in 18 e a sottolineare il carattere episodico di quello stage inutile e inopportuno, sottilmente boicottato da tutti i club più importanti, appena 12 di loro saranno convocati un mese dopo per i mondiali. Portieri, Marchegiani e Peruzzi. Difensori, Baresi, Costa Curta, Maldini, Negro, Panucci. Centrocampisti, Albertini, Dino Baggio, Alessandro Bianchi, Conte, Donadoni, Stroppa. Attaccanti, Roberto Baggio, Casiraghi, Fontolan, Massaro, Signori. Certo, è presente in blocco la difesa più forte del mondo, quella del Milan, poi c'è il pallone d'oro in carica, poi c'è il capo canadone della Serie A, qualcosa di buono ne uscirà. Certo, se magari Sacchi e suo preparatore Vincenzo Pincolini non torchiassero i pochi volenterosi come se fossero a una settimana della finale mondiale, sarebbe meglio. Ah, un'ultima cosa, insiste Arrigo, se si potesse, magari, si potrebbe organizzare una partitella di fine stage, il mercoledì pomeriggio, prima del rompete le righe, per provare gli ultimi schemi con un avversario. Non c'è bisogno che sia una vera amichevole, anzi, possiamo disputarla anche su due tempi da 40 minuti l'uno. Basterà anche una squadretta di qualche serie minore, però non una squadra materasso, uno sparring partner, i soliti ragazzini. Cerchiamo una squadra forte, moderna, aggressiva, che sappia metterci in difficoltà. Già di sua le prese con la gastrite, da quattro mesi Sacchi ha ulteriori motivi di preoccupazione. Da quando a dicembre il sorteggio dei gruppi mondiali ha dato all'Italia un girone che nessuno sa come prendere, senza big conclamate, non c'è la Germania, l'Argentina e il Brasile, ma con tre squadre insidiose per vari motivi, l'Irlanda, il Messico e soprattutto la Norvegia, una nazionale diversa da tutte le altre e una banda di vichinghi che in quei mesi, pur senza esprimere grandi talenti individuali, si trova al terzo posto del ranking FIFA a colpi di pressing e forza fisica. Così gli assistenti di Sacchi, in cerca di una simil Norvegia per affinare gli schemi, la individuano nel Ponte d'Era, espressione calcistica di un paese di meno di 30.000 abitanti in provincia di Pisa, primo in classifica nel girone B della serie C2, unica squadra ancora imbattuta nel calcio professionistico italiano, allenata a un tecnico emergente che, nonostante la calvizie incipiente, ha appena 35 anni e predica un calcio votato alla zona pura. Pressing, difesa alta in linea, fuori gioco sistematico talmente sacchiano che il sacchismo ce l'ha persino sulla carta d'identità, visto che si chiama Francesco D'Arrigo. Nel primo pomeriggio del 6 aprile 1994 Sacchi dispone ai pochi e svogliati giocatori con il suo classico 4-4-2. Luca Marcheggiani in porta, difesa tutta milanista, Panucci, Costa Curta, Baresi, Maldini, Donadoni e Stroppa sulle fasce, Albertini e Conte. In mezzo in attacco la coppia leggera tanto invocata dai giornali che mette insieme il pallone d'oro, Roberto Baggio e il capocannone della Serie A, Beppe Signori. Leggeri, forse troppo leggeri per il Ponte d'Era che risponde con un 4-3-1-2, molto all'avanguardia per l'epoca, quando nessuno gioca ancora con il Rombo a centrocampo. L'unico ex giocatore di Serie A è il portiere numero 1 Giulio Drago, il portiere battuto da Marco Van Basten in Milan-Empoli del 10 aprile 1988, una delle partite fondanti del Milan di Sacchi. Ok, però sei anni dopo di fatto Drago è un ex giocatore, in estate il Ponte d'Era l'aveva ripescato dall'Aquilone, una selezione amatoriale locale di atleti non vedenti. In compenso però ci sono due futuri giocatori di Serie A, il numero 8 Alessandro Pane, faro del centrocampo, futuro punto di riferimento dell'Empoli di Luciano Spalletti, e il numero 11 Alfredo Aglietti da San Giovanni Valdarno, che sarà attaccante di Napoli e Verona, accanto a lui Claudio Cecchini, 26 anni, centravanti mai del tutto sbocciato, a cui risuona ancora nelle orecchie una frase che si è senso dire a 19 anni quando ancora giocava nella primavera del Parma. Sei un albero troppo acerbo, gli aveva detto l'allenatore, devi ancora farti la corteccia. Quell'allenatore era Rigo Sacchi, con il quale Cecchini aveva capito molto in fretta di avere punti di vista molto diversi. Non riuscivo a respirare con lui, era troppo ossessivo. State iniziando a capire oggi, nel 2024, che ci sono tutte le premesse per il trappolone, non se ne accorse 30 anni fa quell'Italia, pigra e sfiancata, degli allenamenti di Pincolini, che al fischio iniziale del giovane Pierluigi Collina approccia la partita con la cattiveria agonistica di un picnic di Pasquetta, due giorni dopo Pasquetta, e mal ce ne incoglie perché dopo 20 minuti di pressing furibondo il Ponte d'Era trova il primo varco. Aglietti in verticale per Matteo Rossi, nome e cognome più che ordinari di quelli che vengono usati negli spot televisivi come il nome fittizio sulle carte di credito o sulle schede elettorali. Insomma, Matteo Rossi scappa via a un Paolo Maldini mai così goffo che addirittura in cespica cade, lascia via libera al numero 7 del Ponte d'Era che si inserisce con tempi perfetti in stile per rotta o frattesi e solo davanti a Marchegiani lo scavalca freddissimo con un pallonetto. 1-0 e Rossi non ha almeno il tempo di esultare perché si è accorto di avere una scarpa slacciata e si ferma ad allacciarsela. Passano tre minuti, Conte appoggia di testa all'indietro per Marchegiani che è in completo tilt e si fa sfuggire il pallone regalando un corner. Calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Matteo Rossi, respinta incerta il difensore azzurro, mischia, cecchini calcia verso la porta, Marchegiani para ma lascia lì il pallone, irrompe Aglietti, 2-0. Ho segnato 130 gol in carriera, dirà tanti anni dopo Aglietti, ma tutti ricordano sempre solo quello che non fa nemmeno statistica. Siamo piantati sulle gambe, mangiati dal pressing del Ponte d'Era il cui allenatore a fine partita, dirà che questa partita non abbiamo nemmeno dovuto prepararla granché. Avevamo la testa alla trasferta di Montevarchi, sabato prossimo, poi cosa disegni sulla lavagna? Gli schemi per marcare Roberto Baggio? Sì però dovreste vederlo Baggio ingabbiato da due o tre giocatori granata per volta, raddoppiato sistematicamente da una squadra di signori nessuno che col passare dei minuti sente montare il rumore della storia, anche fisicamente, perché la leggenda dice che dai dintori di Coverciano alcune decine di tifosi iniziano a radunarsi attorno al campetto e poi diventano un centinaio anche di più. Il telefono portatile del presidente Luciano Barachini inizia a friggere perché le radio stanno trasmettendo la notizia clamorosa del Ponte d'Era in vantaggio 2-0 sull'Italia, la versione calcistica di Orson Welles che racconta alla radio lo sbarco dei marziani. Ma è uno scherzo questo? E invece no, è tutto vero, cheat. Al quarantesimo minuto Collina fichia il puntuale alla fine del primo tempo e Sacchi sbalordito e fuoribondo, prevedendo i nuvoloni all'orizzonte, decide di cambiarne 5. Entrano Peruzzi per Marchegiani, Negro per Baresi, Fontolan per Stropa, soprattutto escono le due punte Baggio e Signori ed entrano Casiraghi e Massaro. Forse anche nell'estremo tentativo di evitare figuracce, Sacchi decide di ammorbidire la squadra arbitrale, sostituendo anche i due guardaline con Pietro Carmignani e Carlo Ancelotti, i due assistenti. Il Ponte d'Era allenta la presa perché, al controllo degli azzurri, da Rigo non fa nemmeno cambi. L'Italia cerca di metterci un po' più di sentimento e accorce le distanze con Daniele Massaro, tentando poi di alzare i toni agonistici del match. A 15 dalla fine, ancora Massaro, il più aziendalista di tutti, alla palla del pareggio. Il suo tiro picca contro la traversa, rimbalza sulla linea, ma Collina, per nulla misericordioso, dice che non è entrata. Segue breve e caotico assedio finale in cui sbattiamo a ripetizione contro il Drago, mentre Sacchi supplica l'arbitro di prolungare la partita d'oltranza finché non pareggiamo. E allora Collina esegue e concede 3, 4, 5, 6 minuti di recupero. Mentre tutti i presenti fischiano convinti, tutti pro Pontedera, questa lastirale non è molto simpatica, questo CT non è molto simpatico. Arrivato al minuto 97, anzi 87, 40 più 40 più 7, getta la spugna, anche Sacchi e Collina, fischia 3 volte, Pontedera batta Italia 2 a 1. Non si può parlare seriamente di questa partita. Ci eravamo allenati anche la mattina. Proverà a difendersi Sacchi, sempre con quel suo tipico fare, un po' passivo-aggressivo. Poi voi scriverete quello che volete, ma questo stage è stato utilissimo, anzi ringrazio il Pontedera che ho scelto perché fa un gioco molto simile alla Norvegia e al Messico. Poi però, intervistato una tv messicana, Arrigo si lascia andare un po' di più. Questo è il momento più difficile da quando sono a CT relazionale, anche se la via Crucis è meglio affrontarla ora che tra qualche mese. Porco Giude! Almeno stavolta Sacchi è un facile profeta. I giornali del giorno dopo aprono il fuoco contro la nazionale, la terza sconfitta consecutiva inamichevole. Alcune testate ci vanno giù particolarmente pesanti, anche un po' per motivi politici. E l'Italia che da dieci giorni è guidata da Silvio Berlusconi, di cui Arrigo Sacchi è chiaramente l'emanazione calcistica. Vedi il titolo dell'unità, Forza Pontedera, riverivento al partito più votato nel paese. La gazzetta scrive in prima pagina «Ai mondiali il Ponte d'Era». Se da noi valesse la legge delle selezioni statunitensi, i famosi trials in occasione di Olimpiadi e mondiali, commenta il vice direttore Alfio Caruso, non c'è dubbio che il Ponte d'Era potrebbe legittimamente ambire e rappresentare tra due mesi l'Italia in America. Per altre 24 ore a Coverciano regnano pessimismo e fastidio, milanisti e interisti tornano a casa, mentre rimangono tutti gli altri, in tutto nove, costretti a una cena penitenziale, in silenziosa compagnia dello staff tecnico e inoltre assorbirsi altre due ore di allenamento Pincolignano il giovedì mattina, prima di tornare finalmente a piede libero. All'uscita, subito assalito dai pochi giornalisti rimasti, sa che prova a metterla sull'ironia. Cosa fate ancora qui? Noi ci rivediamo sabato in ritiro. Sabato? E perché sabato? Il chiedono i giornalisti. Come perché sabato? Avete scritto che siamo una squadra di serie C2 e vi prendiamo in parola e domenica giocheremo in serie C2. Il Ponte d'Era vivrà i giorni più dolci della sua storia, con la gente in piazza a festeggiare la sera stessa. Ma al di là di questo storico exploit, i Granata non vivranno una grande primavera. La sentitissima partita di Montevarchi finirà 0-0, anche perché Aglietti, che essendo di San Giovanni Valdarno vive la sfida al Montevarchi come un derby, sbaglierà un rigore, forse ancora ebro dell'ubriacatura del mercoledì. Delle dieci partite che mancano a fine campionato ne vincerà appena tre il Ponte d'Era, ne perderà due a Lugo in casa del Baracca e poi all'Aquila, anche se la storica promozione in serie C1 arriverà lo stesso. Il 7 maggio ospiterà la Juventus in un'altra amichevole e la costringerà al pareggio per metà partita, prima di far entrare qualche ragazzino e a rendersi con onore 3-1, doppietta di Ravanelli. Gol di Vialli, momentaneo pareggio del trequartista Paolo Moschetti da Pietrasanta, versiliese e conterraneo di quell'allenatore che cambierà la storia della Juventus di lì a pochi mesi. Invece a Francesco D'Arrigo, pomposamente definito il Cruyff di provincia per il suo calcio moderno e i metodi innovativi tipo gli allenamenti in palestra con la musica rock in sottofondo, non riuscirà il grande salto, senza mai raggiungere nemmeno la serie B. Empoli, Atletico Catania, Savoia, Pisa, Lucchese, Giulianova e via via categorie minori, ultimo domicilio conosciuto calcistico, il Neapolis a Mugnano di Napoli, girone C della seconda divisione di Lega Pro. L'Italia di Sacchi, in costante calo di popolarità, conviverà a lungo con lo spettro del flopo mondiale, vedendo i sorci verdi anche in America, verde Irlanda, verde Messico, soprattutto verde Nigeria, prima di essere ripresa per i capelli da Roberto Baggio, così in difficoltà Baggio contro il pressing del Ponte d'Era, così leggiadano nell'afa della East Coast, fino a portarci a 11 metri dal quarto titolo mondiale della nostra storia. Lei invece lo vincerà il Brasile, a cui il Ponte d'Era scriverà un fax di congratulazioni con una proposta finale. Giochiamoci la finalissima in casa nostra per vedere qual è la squadra più forte del mondo. Risponderanno i brasiliani, accetteranno, ma non saranno di parola. Forse anche la Sele So avrà avuto umana paura di quella banda di sconosciuti capace di segnare due gol in 5 minuti alla difesa più forte del mondo, con un 4-3-1-2 di 10 anni avanti, grazie al quale Ponte d'Era finì per la prima e ultima volta nei telegiornali di tutta Italia. Grazie. Grazie.